Musica Amici di Atisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Due Metri la Palla a Nuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi nostro ospite, l'attaccante Mancino e capitano della Copra al Muri Antichi Catania, Luca Muscuso. Ciao Luca, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, grazie a te e benvenuto a tutti. Luca, partiamo da quello che è stata l'ultima uscita, il debutto ufficiale nel nuovo torneo di Serie A2. Quale eredità vi ha lasciato la vittoria ottenuta sabato scorso contro il Centro Nuoto Latina? Sì, innanzitutto è stata ovviamente una vittoria fondamentale per noi. Ovviamente non eravamo abituati a giocare all'aperto, quindi non sapevamo che partita andassimo incontro. Però devo dirti che poi la partita è andata sempre nel verso giusto, quindi abbiamo gestito benissimo tutta la partita ai quattro tempi e alla fine abbiamo portato a casa questi tre punti. Quindi devo dire ottima, ottima, ottima prestazione e siamo molto contenti di questo. Quanto è importante? Sfido la scaramanzia, i riti che ognuno fa a inizio torneo, però io credo che la Copra al Muri Antichi sia una di quelle squadre che nel Girone Sud deve puntare ad una delle prime quattro piazze. Quanto è importante per una squadra che punta in alto aver iniziato il torneo vincendo e per lo più vincendo in trasferta? Sì, questa è la cosa fondamentale. Già partire con una vittoria dà fiducia al gruppo, dà una carica diversa. Come già è ben detto, sì, quest'anno la Copra al Muri Antichi punta a qualcosa di nuovo. Non solo la salvezza, ma proviamo ad arrivare nei primi quattro posti. Sappiamo benissimo che il campionato di Serie A2 non è molto facile, però ci stiamo allenando bene tutti i giorni. Devo dirti che con il nuovo allenatore stiamo riuscendo a fare squadre, quindi sono sicuro che alla fine otterremmo l'obiettivo. Che cosa è cambiato tra Mister Scorza e il nuovo allenatore? Quali sono le novità che ha portato il nuovo tecnico? Allora, c'è da dire che l'anno scorso comunque era un campionato ben diverso. Ovviamente si giocava ogni 15 giorni, quindi era tutto diverso. Poi nella partita dove ci siamo giocati i play-off contro l'Acqua Chiara, l'anno scorso, due settimane prima, abbiamo avuto sei positivi squadre. Quindi la squadra si è allenata ben poco, quindi diciamo che il campionato è stato molto strano. Quest'anno invece troviamo un nuovo allenatore molto più giovane, fino all'anno scorso ha giocato, quindi conosce benissimo il mondo della palla a nuoto. È molto vicino ai ragazzi perché comprende quando c'è stanchezza oppure quando c'è bisogno di lavorare. Devo dire che è molto preparato in questo, quindi sono molto fiducioso. Quali sono gli aspetti del gioco su cui questo gruppo può registrare i maggiori margini di crescita? Siamo all'inizio, quindi immagino che ci sia ancora tanto da lavorare, tanto da migliorare per raggiungere poi gli automatismi ideali. Sì, esattamente. Ovviamente è un allenatore nuovo, schemi nuovi e quindi ancora la squadra ha bisogno di tanti allenamenti per assemblarvi del tutto. Però ovviamente le basi sono un pressing quasi sempre. Lui, l'allenatore, chiede di fare il pressing il più possibile e poi nell'eventualità aiutare il nostro difensore del centro. Però lui ovviamente ci viene molto ai contropiedi, ripartire. Siamo una squadra, sì c'è qualche innesso di grande, però la maggior parte sono ragazzi. Quindi la nostra base è nuotare tanto, ripartire in contropiede. Quindi immagino che dal punto di vista atletico si lavorerà forte, come si dice in gergo tecnico. Esattamente, esattamente. Confermo quello che Pé ha detto. Quindi sì, 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 sì. Notiamo tanto. Comunque facciamo anche molte gambe, facciamo molte amichevole. Abbiamo la fortuna di avere l'anodo Catania in Serie 1 qui a Catania. Quindi ci confrontiamo spesso con loro. Quindi per noi fa tanto questo. E questo, dicevi, fa tanto. Quanto vi è utile l'allenamento infrasettimanale che negli ultimi due anni, per ovvi motivi di prevenzione, è mancato? E soprattutto quanto vi è utile poi confrontarvi con una squadra di categoria superiore? Sì, sì. Secondo me è fondamentale. Fondamentale perché ovviamente c'è il contatto fisico. In una partita c'è tutto. C'è il nuoto, il contatto fisico, c'è stanchezza. Soprattutto con una squadra di Serie 1, una categoria superiore. Quindi ti invoglia a fare sempre di più e quindi è proprio ottimale giocarci durante la settimana. Nel prossimo turno vi attende l'esordio casalingo contro l'Aktis Acqua Chiara. Che partita sarà quella contro la formazione partenopea? Allora, ci ricordiamo che l'anno scorso loro ci hanno mandato i play-out e quindi loro sono andati ai play-off. Lasciando stare questo, comunque sì, è il nostro primo esordio in casa, quindi già considera che l'ingresso in piscina è sold out, tutto pieno. Quindi non vediamo l'ora che arriva sabato per dimostrare quello che siamo. Siamo sicuri che ci aspetta una partita ovviamente difficile e combattuta perché l'Acqua Chiara, come ha dichiarato anche stesso l'allenatore, loro puntano alla salvezza e quindi comunque proveranno a fare punti in qualsiasi campo. Noi ovviamente avremo quella marcia in più che sarà il nostro pubblico e sono sicuro che ci inciderà a fare di più. Quale incidente nasconde un match che, lo hai detto, sarà difficile ma se io faccio il gioco dei pronostici vi vede partire favoriti in modo anche abbastanza netto. Quindi questo potrebbe essere magari da un certo punto di vista anche un boomerang. Quindi quali sono i pericoli che dovete evitare? Esatto, uno è un pericolo da evitare e di sottovalutare l'avversario, non entrare in acqua sicuri di vincere la partita. Ovviamente è un avversario che comunque quest'anno è cambiato molto, quindi dobbiamo entrare in acqua per vincere e giocare al 100%, senza sottovalutare nessuno. Hai detto prima esordio casalingo, l'impianto è sold out, non vediamo l'ora di entrare in piscina. Si ritorna finalmente a giocare con il pubblico. Che effetto vi fa tornare davanti ai vostri tifosi per l'esordio casalingo di un nuovo campionato nel quale, ripetiamo, volete fare qualcosa di bello? Sì, sì, una sensazione bellissima. Finalmente abbiamo i nostri sostenitori di presenza che fa tantissimo perché comunque nei momenti no sono pronti a fare il tifo e quindi per noi è una carica in più. È l'uomo in più che ci dà la forza di portare la palla in porta. Che cosa dirai ai tuoi compagni prima del match di sabato? Quando vi troverete in cerchio? In cerchio, sì. Sicuramente dirò di restare concentrati, aiutarci l'un con l'altro, questa è una cosa fondamentale perché nessuno può sapere l'inizio della partita, può andare sotto e quindi l'importante è rimanere lucidi e concentrati a portare il risultato. Questo sicuramente, li incinerò più il possibile. Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Luca Muscuso per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Luca, grazie mille. Grazie, grazie a te. Grazie a tutti.